discorso quale allora migliori consigli per partire con il dropshipping nel 2022 allora ogni anno il dropshipping diventa sempre più profittevole e diventa una strategia di guadagno ma poi alla fine un sistema di fulfillment sempre più all'avanguardia perché ci sono sempre più investitori che investono in stock e danno la possibilità alle persone di marketizzare e di fare marketing e quindi di vendere i loro prodotti oggigiorno ai tantissimi fornitori e tantissimi agent e quindi è sicuramente non dico l'anno migliore per partire ma il 2022 è migliore dell'anno scorso il 2021 era migliore del 2020 2020 era migliore del 2019 per partire ok è sempre un anno migliore per partire ovviamente non aspettai 10 anni perché poi non sapete poi come si evolvono le cose ok ora sicuramente fatti una ricerca prodotto ad hoc quindi fai una buona ricerca prodotto come farla ricerca prodotto ti consiglio di andare ad esempio sui prodotti amazon video virali su tik tok e cercare prodotti in tendenza quindi cercare un prodottino che ti permetta di fare private label poi successivamente di scalarlo ma eventualmente anche di fare budget cassa iniziale ok sei poco budget quindi trovare un prodottino che ti fa 200 mila euro e poi magari ti finisce la virialità va bene fatto 200 mila euro ti sei creato il budget per lo step successivo ok l'imprenditore è quella persona che va step ok quindi va obiettivi non è che il drop shipping ma si non lo puoi scalare lo puoi scalare nella maggior parte dei casi comprando stock creando un brand ok però se proprio il prodotto è un prodotto incentrato su prodotti tik tok che vanno virali va bene ti fai prima i soldi e poi rivego l'altro prodotto ok ma è step quindi cercare prodotti ragazzi in tendenza virali è la prima cosa in assoluto che vi consiglio di fare e li trovate mi trovate principalmente sui video tik tok ci sono dei vari tag andate fatto già altri video sul mio canale youtube a vi state iscrivendo sul mio canale youtube ragazzi vi dovete iscrivere ci avete sotto subscribe cliccate sto pulsante iscriviti c'è un sacco di visualizzazioni e vedo che tanta gente ogni giorno vede i miei video ma non è scritto che cazzo che cosa vi costa è gratis e così piace anche all'algoritmo mi piace tanto che si fanno iscritti eccetera eccetera non si fanno i soldi però ci fanno gli iscritti che vengono i contenuti e poi vengono educati alla vendita eccetera eccetera e quindi questo quindi cercare prodotti virali in tendenza è il primo step in assoluto vi consiglio di andare su tik tok la su pinterest eventualmente anche e poi incominciare a vendere e anche lì vi consiglio di iniziare a vendere in organico ok quindi non cercate di testare con i soldi ok quindi investendo troppi soldi investite quello che il meno possibile ragazzi vi dovete puntare un gol ovviamente questo per le persone con poco budget poi per imprenditori si fanno è tutto un altro processo ok si va a step a scaglioni prole per le persone che hanno poco budget testate i prodotti con traffico organico quindi l'obiettivo è testare i prodotti senza spendere un cazzo di euro ok quindi spendere il meno possibile partita iva le prime cose che lo sappiamo tutti però non spendete ad esempio mille euro in facebook ads no prendete il vostro prodotto su amazon per fare contenuti lo fate arrivare a casa se esiste su amazon altrimenti contattate il fornitore fate inviare un sample incominciato a fare dei video in casa ok e cercare di mandarli virale abbiamo il nostro corso oltretutto non stato un lancio record per quanto riguarda le vendite su tik tok ed è un corso ottimo ragazzi contattate il mio team se volete entrare eccetera eccetera e incominciate con i video gratuiti su tik tok e lo stesso video in conto in formato verticale lo pubblicate in tutte le varie piattaforme youtube shorts formato verticale pinterest fate i contenuti in formato verticale fate anche snapshot se riuscite a farlo appunto tik tok e ci siamo scordati qualcosa a cazzo anche facebook ha introdotto oltretutto li shorts se non sbaglio correggetemi se sbaglio perché su due brand il mio team mi pare che abbia sta testando gli shorts i formati verticali di facebook che li ha appena introdotti qualche giorno fa e se così fosse così non ricordo male testata anche lì quindi partire totalmente in organico testare tutti in organico e cercare di fare creare cassa in organico poi altri consigli di trovare fornitore adeguati fornitori stabili prezzi competitivi quindi il minor prezzo possibile andare a cercare non un agent non un fornitore contattate contattate venti fornitori venti agent vedete il prezzo di testate incominciata a crearvi la vostra piccola struttura e poi a scalarla di ingrandirla poi nel tempo ok questi sono i migliori consigli che ti posso dare per startare nell'ambito drop shipping nel 2022 22